Oggi è Fai Bungalop, noi stavamo lì, dimmi, dimmi, non ti senti con me al cinema, noi stavamo lì, dimmi, dimmi, come dentro un film Mi sembra di venire più donne, ma gli uomini ci sono questa sera? Qualche uomo c'è, però sono più donne? Mike Francis, sempre Festival Bar 1984, vi diamo anche l'anno per ritornare a quell'estate lì Ace Survivor Vai Mike Ciao Ciao Ciao